Siamo molto contenti oggi per l'esordio sul mercato di Roby, che è un robot umanoide cognitivo che abbiamo pensato per l'industria per svolgere quelle mansioni che l'uomo non merita di fare. Siamo quindi già con alcuni prodotti, alcune macchine già consegnate nell'industria italiana e ci aspettiamo oggi qui in fiera di avere un buon numero di visitatori per poter spiegare le funzionalità di questa macchina che non è nient'altro che un'evoluzione di quello che l'automazione e la robotica hanno già portato nell'industria. Quindi siamo un next step, un robot collaborativo in movimento cognitivo perché è in grado di comprendere le funzioni che svolge e di dialogare velocemente con le persone con cui lavora. Quindi è collaborativo anche in maniera molto veloce grazie al VoiceBot, quindi risponde a comandi vocali e informa anche sullo stato di avanzamento del lavoro vocalmente dando le KPI di performance. Riteniamo che MXP sia il luogo ideale per poter presentare questo prodotto e siamo in un padiglione dove molti presentano robot collaborativi, braccio antropomorfi. Siamo un po' una novità, sicuramente un'evoluzione di quello che possiamo vedere qui in fiera ma siamo sicuri che i visitatori della fiera apprezzeranno questo ulteriore sforzo nel facilitare la vita delle persone e far sì che la tecnologia rappresenti realmente progresso per le persone.